rosa c'è questo fazzolettone no? l'ho trovato in un cassetto però mi piacerebbe sono bei colori mi piacerebbe di utilizzarla qualcosa che ci possiamo fare che possiamo fare siccome possiamo utilizzarlo come sciarpa per i capelli possiamo farne uno blu è così e uno tutto colorato e uno invece tutto colorato così di giovanile e lo facciamo per alba no no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.